Le tecnologie digitali, quali opportunità possono offrire al settore sanitario? Le tecnologie digitali, soprattutto quelle che abbiamo imparato a conoscere nella tecnologia consumer negli ultimi 15-20 anni, quindi quelle che ci hanno portato i vari Google, Wikipedia più recentemente, Facebook e quant'altro, hanno un potere enorme dal punto di vista di impatto sui sistemi sanitari. I sistemi sanitari sono sostanzialmente insostenibili, già oggi e soprattutto andando avanti negli anni, per il semplice motivo che chiaramente demograficamente la popolazione invecchia e quindi ha bisogno di un consumo maggiore di risorse sanitarie e perché chiaramente la popolazione mondiale richiede giustamente un accesso alle cure di alto livello ubicono a livello mondiale. Quindi c'è un aumento sia della quantità di persone che chiedono salute, sia ovviamente della complessità dei problemi. Questo tipo di tecnologie intervengono e interverranno sempre di più a tutta una serie di livelli, sia di processo, sia di terapie, sia di efficienza dal punto di vista dell'aderenza, per esempio la terapia e quant'altro, portandoci, la promessa è che ci porteranno dal punto di vista della sanità, proprio questa sostenibilità e questa quasi rivoluzione proprio dei processi di cura, come è avvenuto in altre industrie come il travel oppure il banking e così via.